Francesco, cosa fai? Eh, che faccio? Porto un amico in Vodafone. Ciao, ciao! Facciamo cambio? No! Devo fare anche quello con le candeline che poi era bellissimo perché c'erano tutti i colori anche sui piatti che andavano e venivano. Prego, accomodati! Grazie! Meraviglioso. Ah, però! Grazie! Prego! Porta un amico in Vodafone A lui raddoppiamo le ricariche A te rimborsiamo le chiamate Accomodati Perché l'importante sei tu Io, io tu Chiama il 42004